che si riisole ah ma non sta a punto non ti asciuggo non ti asca 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 nooo e aspettiamo tutti perché anche quest'anno a Tornola si parlerà solo in termolentino in termolentino Ma c'è, c'è tutto all'esterno l'ex Un petto annacciato, sti mangiando da stamattina Chiudi a petto a novemila, la mattina a fascioport Sta ziando che a fuma come non tocca Chi va sa golla, le maniate che laie che noie